Ciao ragazzi, sono Niki e oggi siamo qui in Coffee Training Academy. Oggi di che cosa parliamo? Del caffè. Ma va mescolato o no l'espresso? Perché dobbiamo mescolare il caffè? Innanzitutto per un motivo che vediamo subito quando andiamo ad estrarre l'espresso dalla nostra macchina. Vediamo che le sostanze vanno a stratificarsi, e quindi per avere una tazza bilanciata, più armonica e più completa, dobbiamo andare a mescolare. Non dimentichiamoci poi, e questo è un consiglio che dobbiamo dare anche al cliente che ci troviamo davanti al banco, che l'espresso ha una crema che fa da sorta di tappo. Quindi noi col cucchiaino, andando a rompere questo tappo, andiamo a sprigionare, a fare in modo che la nostra tazza esprima tutti i sentori, tutti gli odori e i sapori che siamo andati ad estrarre dai nostri chicchi di caffè. Quindi quando abbiamo un cliente al bancone che ci dice, no ma io lo zucchero non lo metto, innanzitutto dobbiamo essere contenti, ma in secondo luogo andiamo a darle lo stesso il cucchiaino e diciamoli che l'espresso va mescolato, in modo che la sua tazzina può sprigionare tutti i sapori e tutti gli odori dei nostri chicchi.